Che giro andiamo a fare oggi? Allora oggi partiamo di qua da Viozene, andiamo a Carnino, poi passiamo dove nasce il tannaro, nelle vene, poi passiamo sotto il Mongioia dal rifugio e andiamo a fare il sentiero che adesso erano due anni che era chiuso perché la strada era venuta giù e grazie a dei volontari l'hanno ripristinato, quindi andiamo a fare questo sentiero qua. Ok, quindi è un anello e rientriamo sempre qui? qui siamo a Carnino, seguiamo la guida adesso mi metto qua in piano, eh? Sì perché mi sa che sarà qualche difficoltà lì sotto le piante, ma andiamo ancora indietro, dobbiamo passare tra un paio di mesi permesso, 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 noi che andiamo a piedi abbiamo la precedenza che bello qua Andrea, che figata, spettacolare diciamo che questa parte qui è bella tecnica nel senso che, così vi rendete conto, è molto molto in discesa e praticamente il terreno sono di quelli di pino di pietroline che se tocchi i freni scivoli e non ti fermi grazie mille ciao, grazie è l'occasione buona e dopo il passaggio tecnico nella ruota guardate che sentiero che c'è dietro l'angolo fantastico guardate che sentiero guardate che roba che roba, il photostop qua, che bello che figata, guardate che posti, bellissimo si, si, si si, si di solito quando faceva bene aprile, cominciano maggio, portano i ragazzi delle scuole sono bello ma percorso molto vario, le parti rocciose, le parti alpine con queste parti di bosco che è bello, cioè molto vario guardate che faccia Oh 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 e siamo ritornati siamo tornati sono tornati tutti grazie Andrea bello bello bel giro allora tra un quarto d'ora sì sì guarda tanto io ho detto a l'uno e mezzo è il tempo che ti prepariamo ola grazie a tutti